Due parole nasce sull'onda di questa integrazione delle persone con varie forme di disabilità nella scuola, per cui è nata la figura del professore, dell'insegnante di sostegno, che affiancava i ragazzi con qualche problema di qualunque tipo nel processo di apprendimento. Il punto qual era? Che finiti gli anni della scuola dell'obbligo, anche se magari con qualche anno di ritardo, in alcuni casi con i portatori di ritardo mentale o comunque situazioni di una certa gravità, queste persone si trovavano a non poter più godere né della mediazione di un insegnante ad hoc che lo aiutasse a districarsi tra le parole dette e scritte, sia la difficoltà poi di accedere direttamente ai mezzi di informazione, dal telegiornale al giornale radio, ai diversi quotidiani, settimanali, mensili e così via. Allora molti genitori, molti operatori, alcuni genitori o molti operatori sociosanitari si sono rivolti al professor Tullio De Mauro ponendogli questa domanda, cosa facciamo leggere ai nostri figli una volta usciti dalla scuola dell'obbligo? Cosa li può tenere informati su quello che succede intorno a loro con una capacità intellettiva che andava non oltre gli undici anni? Ma una persona con un certo disturbo o deficit di qualunque tipo, anche se lo sviluppo mentale rimane intorno ai dieci, dodici anni, però su tutti gli altri piani è una persona adulta, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista anche delle aspettative di avere un lavoro, una certa autonomia. E allora la domanda che fu fatta a De Mauro fu trasformato immediatamente in un tentativo di provare a scrivere testi accessibili per quel tipo di destinatario. Quindi la domanda nasce da persone che concretamente sperimentavano l'inaccessibilità dei testi cosiddetti, tra virgolette, così come li troviamo in natura sui giornali, al telegiornale, per persone con qualche difficoltà. Di qualunque tipo, dallo svantaggio socioculturale al disturbo specifico di apprendimento. Quindi c'era una vasta gamma di persone che, chi più, chi meno, era tagliata fuori dall'accesso all'informazione, dall'informazione adulta. Eppure questi sono, come dire, aspiranti a un lavoro, sono persone che votano, che devono fare delle scelte da cittadini, ma che hanno questo vincolo, per così dire, legato a una certa difficoltà di stare dietro alla lingua scritta e un po' meno alla lingua parlata. E allora, da questi primi tentativi di produrre testi molto tagliati, diciamo dal punto di vista linguistico, dell'organizzazione logico-concettuale, su destinatari con problemi di una certa entità, è nata l'esperienza di Due Parole, cioè quella di fare informazione adulta con un linguaggio che fosse accessibile anche alle persone con disturbi precisi, oppure con deficit, oppure svantaggiati socioculturalmente. Per cui Due Parole nasce come un tentativo di colmare un vuoto tra lo Stato che ha impegnato risorse, energie, risorse anche finanziarie, energie umane, per portare a un certo livello di istruzione e di capacità di lettura e scrittura persone anche con disabilità di questo tipo mentale, voglio dire, e poi il fatto che finita la scuola media dell'obbligo venivano abbandonate a se stessi. E allora Due Parole cerca di rispondere a questo bisogno. La cosa importante da dire è, anzi le due cose sono importanti. Una, che noi, compreso il professor De Mauro, abbiamo nel fare questa esperienza tra l'83 e l'89, quando è nato il primo numero di Due Parole, ma noi dall'83 che eravamo impegnati in corsi di scrittura per cercare di capire come ottimizzare la scrittura per destinatari specifici, abbiamo imparato un sacco di cose. Noi, docenti, universitari, ricercatori e studenti. Quindi siamo stati i primi a guadagnarne. La seconda cosa è che una volta che siamo usciti, finalmente nell'89, dopo un seminario durato 3-4 anni con gli studenti, che poi sono diventati i redattori di Due Parole, abbiamo sperimentato questi criteri di scrittura in centri di formazione professionale dopo la scuola dell'obbligo, beh, insomma, abbiamo visto che i nostri lettori non erano solo persone con ritardo mentale, persone down o persone con svantaggio socioculturali. Erano persone anziane, sole o inserite in centri diurni o comunque di lunga degenza per varie ragioni, perché erano persone con qualche malattia incipiente o più o meno avanzata che per esempio avevano anche soltanto il problema di una lettura, come dire, fisica del giornale. Per cui il fatto che Due Parole avesse scelto un corpo tipografico di una certa dimensione oppure che usasse molto gli spazi per dare respiro alla pagina, non affogare le parole, gli articoli in spazi bianchi sempre più ridotti, quindi avere delle mappazze, come si dice tra i giovani, di testi, ma fare dei testi un po' areosi, cioè distribuiti graficamente, tipograficamente, in un certo modo, questo aiutava molto la lettura anche delle persone anziane. Per non parlare poi della sete che in qualche modo siamo andati a soddisfare di lettura di testi per persone che stavano arrivando in Italia e che non avevano niente da leggere. Da leggere dal punto di vista, poi è nata la Free Press, molto dopo, ma non oso, io credo che sia un'opera meditoria, qualunque tipo di carta scritta, però ecco la Free Press lavora sui dispacci delle agenzie, taglia e mette, ma non è che c'è un lavoro, una rielaborazione dell'informazione. Noi per fare un giornale come due parole impiegavamo esattamente un mese per fare otto pagine con una media di articoli che potevano essere due o tre articoli a pagina, quindi mediamente per fare 24 articoli la redazione al suo completo lavorava dal produttore al consumatore circa un mese, che non è poco, devo dire, per fare un giornale. Però è un giornale molto controllato, sia dal punto di vista grafico-tipografico, sia dalla scelta delle informazioni e soprattutto sul modo, controllata nel modo di scriverlo, di scrivere i testi. Quindi è qualcosa che richiedeva diverse competenze, dal grafico al tipografo, ma soprattutto dei redattori che avessero accettato le torture a cui li abbiamo sottoposti per anni nel cercare di dominare la lingua e scrivere in modo appunto controllato e non come, come dire, siamo stati abituati a scrivere, cioè di getto, senza pensare e ripensare alle formulazioni linguistiche, perché tutto si può dire in tanti modi, però scegliere il livello giusto per quella situazione per quel destinatario, come dire, è l'anello che manca tra la bestia e l'umano.